Buongiorno e ben ritrovati per questa puntata di 7 in punto che iniziamo in trasferta da Palazzo Barbieri, la sede del Comune di Verona per incontrare il Sindaco Flavio Tosi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la notizia è, diciamo, l'occasione, è la presentazione della fondazione Ricostruiamo il Paese che venerdì proprio a Padova sarà presentata dal Sindaco che è anche il Segretario federale della Lega Nord Liga Veneta, protagonista della scena politica di questi tempi in cui si stanno definendo nuovi leader a destra come a sinistra e Flavio Tosi si candida a rappresentare l'area di centro-destra alle prossime elezioni politiche. Una sfida molto impegnativa. Sì, anche se in un Paese normale si dovrebbe arrivare a una democrazia compiuta e quindi ad avere due schieramenti che si confrontano, come avviene appunto per i sindaci, tant'è che uno dei sistemi elettorali di cui si parla è quello, diciamo, di mutuare il sistema dei sindaci a livello nazionale. E quindi avere i due leader delle principali coalizioni che si confrontano con i loro programmi e il modo migliore per definire le figure di due leader dovrebbe essere, come già ha fatto il centro-sinistra, attraverso le primarie. Quindi che siano in questo caso anche gli elettori del centro-destra che finalmente dopo vent'anni in cui c'è stata una leadership del centro-destra unica e mai messa in discussione. adesso che insomma è normale attendersi il cambiamento, che questo non avvenga attraverso una decisione delle segreterie ma che siano i cittadini e gli elettori del centro-destra a scegliersi i loro leader. Quindi sarebbe bellissimo avere, magari la cosa più bella sarebbe lo stesso giorno, le primarie centro-destra e centro-sinistra con i due candidati leader che poi si contendono la premiership così il Paese sa cosa sceglie, sarebbe un fatto di democrazia vera. Ecco, convincere l'elettorato di centro-destra già ad accettare una candidatura che viene comunque da un mondo politico che non è strettamente legato alla storia di Forza Italia e poi del popolo delle libertà, non sarà però cosa facile? Beh, perché se uno pensa alle leve primarie attraverso un meccanismo partitico, cioè direttosi è il candidato della Lega, Tizio è il candidato di Forza Italia, quell'altro è il candidato del nuovo centro-destra e così via, ma non è così, è come quando sono le elezioni comunali, chi è candidato è candidato di tutto il centro-destra e va a chiedere il consenso a tutto il centro-destra, quindi ci può essere l'elettore leghista che non gli piace a Flavio Tosi, gli piace a qualcun altro, ci può essere l'elettore di centro-destra che non gli piace il suo candidato, gli piace a Flavio Tosi e in maniera assolutamente al di fuori dello schema del partito, quando tu ti candidi per questi ruoli non vai là né per il tuo partito né a rappresentare solo il tuo partito, vai là a rappresentare tutti i cittadini che hanno votato trasversalmente e anzi i consensi di chi magari ti dà il voto in maniera non scontata, cioè se si candidasse fra le votazioni alle primarie si può pensare che l'elettore leghista lo voti normalmente, ma vale di più il fatto che ci sia un elettore non leghista che ti vota comunque perché condivide il programma e quindi quando si fanno le primarie bisogna sganciarsi dal meccanismo partitico, ci sono delle persone che rappresentano e sperano di rappresentare tutto il centro-destra e si confrontano con tutto l'elettorato di centro-destra. Di sicuro la posizione di Berlusconi è in questo momento molto complicata per le note vicende giudiziarie, è stato nominato anche un coordinatore nazionale, sappiamo che potrebbe anche lui entrare nella competizione delle primarie, c'è la posizione nuova di Alfano, quindi forse tra i due litiganti uno spazio si crea? No, ma poi alla fine oggi contano molto di più le persone che non i simboli e gli slogan e quindi i cittadini, gli elettori del centro-destra, c'è anche chi nel centro-destra le primarie non le vuole, ma poi alla fine io sono convinto, non perché ci tengo personalmente, ma perché penso che sia l'unico modo attraverso il quale il centro-destra può non dare per scontata la vittoria di Renzi, perché o il centro-destra dice andiamo tutti quanti divisi, ognuno con il suo candidato e si perde, oppure si cerca di creare una coalizione di centro-destra che possa confrontarsi con Matteo Renzi o Letta, però diciamo è più probabile che sia poi Matteo Renzi l'intercutore. E allora in un contesto del genere se tu vuoi riconquistarti la fiducia dell'elettorato di centro-destra, leghista e non solo, che in molta parte non è andato a votare le ultime elezioni o ha votato Beppe Grillo, devi dargli la possibilità di scegliere e quindi dire abbiamo dei candidati che si confrontano e ripeto alla pari e sono persone, tu guardi Flavio Tosi, Alfano, Giorgia Meloni, Crosetto, altri ministri, Lupi e quant'altro e li guardi per quello che dicono e per quello che fanno e per quello che hanno fatto, anche per quello che hanno fatto, perché quello penso sia un metro di paragone, almeno di poter dire uno ha fatto queste cose e ha dimostrato di saper fare qualcosa. Diciamo che la candidatura nazionale che parta da una persona che comunque rappresenta in Veneto la Lega Nord e la Liga Veneta e che comunque si trova a giocare anche un'altra partita importante, importante anche per la Lega Nord e per Salvini che è il referendum sull'indipendenza del Veneto potrebbe trovare un conflitto in ambito nazionale. Io ho una maggioranza per dare un'idea di come secondo me è il concetto di democrazia, io ho una maggioranza in Comune di Verona che è composta dalla Lega e in misura preponderante dalla listatosi. Nella listatosi sono sensibilità diversissime perché sono esponenti del centro-sinistra, tanti esponenti del centro-destra, tantissimi che non avevano mai fatto politica in vita loro e oggi siedono in Consiglio Comunale. E con questo tipo di schema veramente vai al di fuori di quello che è, perché il discorso del referendum, la mia maggioranza, dove ci sono esponenti che una volta erano di Alleanza Nazionale, che una volta erano di Forza Italia, hanno votato non perché vogliono l'indipendenza del Veneto, hanno votato perché i cittadini veneti possano esprimersi. A qualcuno di loro io sono sicurissimo che sono assolutamente contrari al fatto che il Veneto possa essere indipendente, però hanno votato a favore perché dicono che è giusto che il Veneto si esprima su questa proposta, io da un punto di vista molto concreto e programmatico, non credo che se si riuscirà a fare il referendum il risultato finale sarà quello che il Veneto proclama l'indipendenza. Se per caso il Veneto riuscisse a indire questo referendum, il risultato sarà quello di dare una scossone fortissimo allo Stato centrale che comincerà a preoccuparsi perché una regione lancia un referendum di questo tipo. Il problema non è la secessione, l'indipendenza, il problema è dare comunque una scossa allo Stato centrale che fino adesso è rilassato, seduto, non fa riforme e serve qualcuno che gli dia la sveglia. Tant'è che appunto il Consiglio Comunale di Verona a maggioranza ha approvato il voto a favore che si tenga questo referendum, ma ripeto, non perché si vuole l'indipendenza del Veneto, ma perché si vuole che comunque i cittadini veneti possano esprimersi in maniera tale da dare un segnale politico. Sa che mi ha fatto venire in mente una frase di Zaia che ha detto appunto che l'indipendenza è come quando porti la fidanzata e la presenti ai genitori, poi te la devi anche sposare, la devi portare fino in fondo. Questa cautela di Zaia lei in questo momento mi sembra la condividere. No, ma non è questione di cautela, è questione di democrazia compiuta. Secondo me col referendum come avviene nei paesi più moderni, più moderni non tanto, l'Italia è da un punto di vista delle famiglie, delle imprese, della società è un paese moderno, da un punto di vista della politica e dell'istituzione è un paese vecchio, nel senso che siamo senza riforme, senza rinnovamento. Le democrazie compiute, i cittadini negli Stati Uniti, in Svizzera in maniera particolare, votano su tutti i temi e decidono su tutti i temi e quindi è giusto che anche su un tema come questo il cittadino si possa esprimere. Poi ripeto, io per dire sono un federalista, io non sono un secessionista, io sono un federalista convinto, però ritengo giusto che se i cittadini vogliono esprimersi anche su quello abbiano diritto di farlo. Abbiamo detto il nome di Luca Zaia, governatore del Veneto, tra l'altro siete stati appaiati in questa classifica del Sole 24 Ore, Luca Zaia al secondo posto, lei in discesa però in realtà in percentuale il consenso non è calato tantissimo, quindi in realtà è più il calo di posizione che il calo di consenso. Ecco, due figure molto forti in questo momento nella politica a Veneto, in un panorama che altre posizioni di grande forza non le sta esprimendo e quindi facilmente, insomma, come si immagina il futuro? Lei è alla guida della nazione e Zaia è alla guida della regione? Beh, allora, Zaia è alla guida della regione è un fatto compiuto, certo. No, alla prossima, alla 2015 diciamo. Ecco, diciamo che per tutto il centro-destra le prossime elezioni saranno meno facili che in passato, ma non per la regione Veneto, perché se guardiamo anche le ultime elezioni nei comuni capoluoghi, a parte Verona e pochissimi altri, considerate oggi, che sembra paradossale, oggi Verona è la città amministrata dal centro-destra più grande d'Italia, perché Verona come dimensioni, come abitanti è l'undicesima città d'Italia, le altre dieci, tutte, sono tutte amministrate non più dal centro-destra, Milano, Roma, Genova, Torino e quant'altro, perché appunto il centro-destra sulle elezioni ultime da un po' di tempo a questa parte, compresa la Lega, è andato in difficoltà. E quindi per questo dico le elezioni regionali, c'è Luca Zaya che governa e sarà, secondo me, normalmente quando hai il presidente uscente è il candidato naturale. Il panorama nazionale è tutta un'altra sfida, c'è il panorama nazionale e tu oggi hai un Premier che è espressione un po' di tutti, perché in realtà ha un governo che è fatto dal centro-destra e dal centro-sinistra assieme. Alle prossime dovrebbe essere, se si tornerà alla normalità, il centro-destra da una parte, il centro-sinistra dall'altra, mentre per il centro-sinistra la scelta sarà probabilmente Matteo Renzi o comunque eventualmente Enrico Letta, per il centro-destra potrebbe essere Flavio Tosi o altre 7-8 figure del centro-destra che potranno essere candidate. Lei pensa che la Lega Nord, se si voterà come sembra si voterà, tra un pochino insomma non si sa se a primavera stessa, un po' più avanti comunque pare che le elezioni ormai siano imminenti. La Lega Nord riuscirà ad avere abbastanza consenso per poter sostenere sia la sua posizione che quella di Luca Zaya? Beh, allora, se tutti i candidati delle primarie non è più il partito che ti sostiene, sono i cittadini. Come Fisatia, sindaco di Milano sostanzialmente. Sì, sì, ma io a Verona, per dare un piccolo, relativamente sono 260 mila abitanti, la Lega ha raccolto alle ultime elezioni nel 2012 l'11% e la lista Tosi ha raccolto il 37 oltre il 36%. Quindi vuol dire che ci sono stati i leghisti che hanno votato Flavio Tosi, ci sono state tante persone che leghisti non sono che hanno votato Flavio Tosi. E questo è il meccanismo delle primarie, cioè un cittadino ti vota, un elettore ti vota, al di là della tua appartenenza politica ti vota per quello che sei in grado di fare e per la persona che sei. E questo vale per Flavio Tosi, per Luca Zaya, per chiunque pensi di governare. È impensabile oggi governare con l'appartenenza politica in senso stretto dire io rappresento solo questa parte politica e vado là in nome per conto di questa parte. Tu vai là in nome dei cittadini, di tutti, perché poi quando vieni eletto la sfida vera è rappresentarli tutti, non è rappresentare i tuoi, quello è facile, devi rappresentare soprattutto gli altri. Lei mi sembra abbastanza ottimista, diciamo così, eppure diciamo che negli ultimi, da quando è diventato, da anche prima forse che diventasse segretario del Lega Nord e Lega Veneta è stato un percorso abbastanza ad ostacoli, quello che l'ha portata fino a qui e quello che sta continuamente anche attraversando, è inutile tacere, insomma delle inchieste giudiziarie che riguardano lei direttamente, la giunta veronese. In questo senso lei si sente tranquillo, pensa che potrà intralciare questo suo tragitto? Beh, beh, inchieste che riguardano me direttamente neanche una, in realtà zero. Ce n'è qualcuna che riguarda qualche amministratore, la gran parte riguardano dirigenti e funzionari pubblici, che riguardano il sindaco in prima persona neanche una. Però noi siamo un paese strano da questo punto di vista, dove inchieste ce ne sono tante e purtroppo, dico purtroppo perché questo rischia di minare talvolta la credibilità delle procure. Spesso in Italia succede che di cento inchieste che vengono aperte, anzi statisticamente purtroppo è così, la larga parte poi finiscono nel nulla. E questo rischia di far percepire l'azione di alcune procure come un'azione politica anziché come un'azione alla ricerca della giustizia. Però ripeto, il sottoscritto non ha nessun coinvolgimento oggi in alcune indagini. Però i cittadini sanno chi sei, quello che fai e se quello che dici poi lo traduci in fatti concreti. E ti misurano su quello. Ed è lì che quello sarà il criterio attraverso il quale la gente sceglierà e sceglie, come è abituato a fare, il premier anziché il sindaco, anziché chi comunque viene elettro nelle istituzioni. Le prossime elezioni saranno anche un po' un referendum sull'Europa, questo è abbastanza chiaro. Anche all'interno della Lega Nord le posizioni sono molto differenziate. Lei sta cercando di prendere una linea più morbida da questo punto di vista. Non Bruxelles ladrona sostanzialmente, come era lo slogan della prima Lega su Roma. Il rapporto con l'Europa, che è un rapporto che ha visto l'Italia penalizzata e perdente, non è colpa dell'Europa, è colpa dell'Italia. Se il governo italiano in lunghi anni, mica adesso solo con Enrico Letta, non è stato in grado di difendere l'Italia, è colpa della politica italiana. Perché la Germania si difende splendidamente, tanto è che comanda, la Francia fa valere i suoi interessi e l'Italia che ha più o meno lo stesso peso, quasi lo stesso peso dovrebbe avere rispetto agli altri grandi paesi europei, andiamola a prendere ordine. E quindi è un problema nostro e la crisi che c'è in Italia, non è colpa dell'Europa, la crisi che c'è in Italia, ci sono problemi dei rapporti con l'Europa, che ripeto è una responsabilità della nostra classe politica che non sa difendere i nostri interessi nazionali in ambito europeo. Ma se noi abbiamo troppa spesa pubblica, troppo debito pubblico, un numero complessivo a livello nazionale nel pubblico impiego che è sovraordinato rispetto agli altri paesi europei, è un problema nostro, la crisi è colpa della politica italiana, non è che si può scaricare sull'Europa, è come se la Grecia dicesse che è colpa dell'Europa. La Grecia ha speso spanto, gestito da cani e adesso paga il conto e l'Italia paga il conto della sua classe politica. Abbiamo solo nominato una volta Beppe Grillo in questa intervista, che è un elemento non indifferente invece nel gioco della politica italiana. Come non indifferente, sono proprio le ultime notizie che riguardano gli elettori del Movimento 5 Stelle che hanno proposto un referendum sull'abolizione del reato di clandestinità. Come la vede? L'importante è che ci sia una norma che regola l'ingresso o il non ingresso dei cittadini stranieri sul territorio e regolamenta anche la possibilità di espellere e di allontanare chi non ha il diritto di stare, perché l'abolizione to cure del reato di clandestinità non serve a niente. Togli il reato e fai peggio, nel senso che già adesso l'Italia è in meta favorita dell'immigrazione clandestina, perché diamo questa impressione, perché la Grecia potrebbe essere e non ci vanno. La Spagna gli spara, che non vuol dire che bisogna essere come la Spagna, però consideriamo che gli altri paesi europei del Mediterraneo, Malta, la Grecia, la Spagna, hanno un atteggiamento diverso, un atteggiamento di chiusura talvolta molto cinico e quindi l'Italia è l'unico paese che li ospita, che li riceve. Dare segnali di ulteriore apertura in un contesto del genere è poco sensato, perché noi abbiamo già una crisi fortissima, i giovani al 40% senza lavoro, ci manca solo che aumentiamo la spesa e il carico sociale attraverso l'immigrazione clandestina e quindi se uno vuole discutere di modificare le norme in maniera sensata si può parlarne, se uno dice aboliamo la vostra i fini, aboliamo il reato di immigrazione clandestina, non fa un servizio al paese. Siamo quasi in conclusione di questa intervista, io volevo toccare anche un argomento un po' leggero che riguarda il suo tifo sportivo, ho delle belle soddisfazioni quest'anno. con l'Ellas, non sempre, ma generalmente sì, qualche volta meno. Come la vede il campionato? È ben messa in classifica? Se a inizio del campionato avessimo dovuto fare la firma di dove ci troviamo adesso l'avremmo fatta anche per una posizione sicuramente più in basso, però il campionato è lungo, è un campionato difficile, dobbiamo essere realisti, l'obiettivo iniziale della società del mister Mandorlini era stato onestamente la salvezza, intanto pensiamo a quella, pensiamo alla salvezza. Poi se arriva a qualcosa di più, tanto meglio, a Verona abbiamo avuto grandi fasti e grandi traguardi, si è stata l'ultima provinciale a vincere uno scudetto, abbiamo avuto 11 anni fra serie B e serie C, quindi insomma già essere in A è già comunque un grande risultato. La sorvoliamo sulla scivolata del prefetto di Vicenza? Ma credo che un uomo delle istituzioni, io sono un sindaco, tifosissimo dell'Ellas perché è più di 30 anni che vado in curva, una scivolata così di un uomo delle istituzioni è grave, grave perché offende una città, perché comunque chi ha pronunciato quella frase non si qualifica positivamente perché io non vado allo stadio con la mazza in macchina, mi dispiace, non penso che i cittadini di Vicenza, di Napoli o di Torino siano dei violenti, quindi ecco credo che non è neanche una battuta da bar, poteva proprio evitarsela. Va bene, allora con i buoni auspici per l'Ellas Verona e anche i suoi personali per questa candidatura che comunque vedrà aprirsi un dibattito nelle prossime settimane, chiudiamo questa puntata, ringrazio il sindaco di essere stato con noi stamattina, magari la ospiteremo un'altra volta per parlare di questioni veronesi che non tutto si può fare in 20 minuti. Volentieri, buona giornata a voi. Grazie, noi continuiamo invece tra pochissimo parlando ancora di politica con il sindaco reggente di Padova, Ivo Rossi, parleremo delle primarie del Partito Democratico a Padova per le amministrative, ma non solo, tra poco.